Diciamo che è focalizzata principalmente sul degrado, il degrado della casa, il degrado dei servizi pubblici e il degrado del mondo del lavoro. Dal degrado del lavoro a quello sociale, dove passa il rilancio di Trieste. Ecco su cosa si è focalizzata la conferenza stampa dell'Unione Sindacale di Base, un incontro per tracciare un bilancio di fine anno, ma soprattutto per porre l'attenzione su alcuni temi, dalla situazione in cui versano alcuni alloggi ATER, alla crisi industriale, in riferimento a Flex e Varsila, fino al lavoro in porto. Partiremo dalla casa. Abbiamo scoperto, diciamo, conoscendo le persone, che in buona sostanza, chi ci vive ovviamente è quello che una volta si definiva il sottoproletariato, persone in margine della società, persone in margine del mondo lavorativo, quindi con salari bassi, con part time. Quando fai entrare il codice civile su quel tipo di degrado, quindi pareti completamente coperte di muffa, appunto il codice civile che interviene su un atto di inciviltà, soprattutto peggio mi sento perché è fatto da un ente pubblico. Ragioniamo sui servizi perché poi queste persone accedono ai servizi, come gli ospedali dove i lavoratori fanno a gara per avere il posto pubblico, ma poi se ne vanno perché effettivamente il carico di lavoro, il trattamento anche economico non è più adeguato. E poi per finire il mondo del lavoro, ovviamente. Un passaggio ovviamente obbligato su Varsila, dove quello che temiamo è che l'apertura più o meno immediata del licenziamento dei lavoratori possa portare anche a un inclinamento di tutto il percorso che si è fatto fino ad oggi. Non capiamo come Ansaldo possa poi recuperare tutti questi lavoratori che vanno inaspi e che quindi aspireranno e cercheranno altri posti di lavoro. Un altro elemento che ci preoccupa sulla portualità è il rinnovo del contratto collettivo Nazioni di Lavoro e si sta discutendo dell'introduzione di una specie di contratto a chiamata. Introducendo elementi di, come dicevamo, di competitività, quello che temiamo è che ci sia l'implosione di fatto degli articoli 17 e quindi il crollo dei tariffe e il crollo dei salari dei lavoratori portuali.